Quattro giorni per conoscere la Versilia, le bellezze e le risorse turistiche dell'entroterra, le specialità enogastronomiche della zona e, perché no, rilassarsi in uno degli yacht più belli e attrezzati all'ancora nel porto di Viereggio, oppure godersi uno spettacolo nel cuore di Pietrasanta al calare del sole. Questa è Yare 2017, il più originale evento di business a livello internazionale organizzato da Navigo dedicato al settore di super yacht in corso di svolgimento in Versilia fino a sabato 22 aprile. Giovedì sera, nello scenario del chiostro Sant'Agostino a Pietrasanta, cento comandanti di imbarcazioni da sogno provenienti da tutto il mondo sono stati ricevuti dal sindaco Mallegni e premiati con un dono dello scultore Giuseppe Carta. Oggi consegniamo questo bellissimo gioiello realizzato dal maestro Carta, che è qui con me, che lo ringrazio, che ci ha dato l'onore di realizzare questa bellissima mostra a Pietrasanta e oggi rendiamo omaggio ai comandanti delle cento imbarcazioni più belle del mondo, dando loro appunto il gioiello e mostrando la nostra città. Credo che di più non potremmo fare. Ringraziamo Yare, l'organizzazione, Navigo, tutti quelli che hanno pensato che Pietrasanta potesse essere un elemento da spendere in questo tessuto internazionale. I capitani del super yacht e le loro compagne hanno goduto dell'ospitalità di Pietrasanta e molto apprezzato il premio ricevuto dallo scultore che espone nella piazza del Duomo. Comandante è un bel riconoscimento questo. Bellissimo, bellissimo. Siamo stati bene, veramente tutto organizzato alla grande. Alcune opere d'arte sicuramente sono presenti al bordo degli yacht, per cui l'incontro ora tra lo yacht o lo yachting in generale e l'arte sicuramente è un incontro bellissimo. Una bella cosa, una bella iniziativa, come ogni anno. Speriamo che duri anche altri 20-30 anni questo evento.